Venerdì 18 ottobre si terrà un importante evento presso la sala consigliare della provincia di Novara, organizzato e promosso da Anci Piemonte e da Fondazione IFEL. Sarà una grandissima occasione, importante occasione per gli amministratori del nostro territorio e per i dipendenti degli enti locali, dei comuni del nostro territorio, per un momento di formazione importante per quanto riguarda la gestione del personale, per quanto riguarda la gestione dei bilanci e dei tributi. Quindi un grazie di cuore va ovviamente riservato a tutti coloro i quali hanno organizzato e promosso questo importante momento di formazione per i dipendenti pubblici e per gli amministratori, per i sindaci della nostra comunità e ovviamente è anche un invito a tutti coloro i quali sono interessati di aderire presso il sito dell'Anci Piemonte e cogliere questa importante occasione di formazione e di investimento per la nostra comunità.